Quindi Matteo Salvini, soddisfatto dell'esito di questo referendum? Orgoglioso di una partecipazione che è un modello di democrazia per tutta Europa, ordinata, legittima, che chiede autonomia, politica a chilometro zero, soldi spesi meglio, spesi più vicini ai cittadini. E da oggi la stessa opportunità la offriamo a chiunque in Italia voglia avere meno burorezia, meno tasse e meno vincoli statali europei, quindi dalla Puglia al Piemonte, dal Lazio all'Emilia Romagna, siamo a disposizione, non è la vittoria della Lega, è una vittoria del popolo e quindi l'Italia la riformeremo partendo dal basso, coinvolgendo i cittadini, coinvolgendo i sindaci, occupandoci di strade, di scuole, di ospedali, di università, di lavoro e quindi meglio di così non poteva andare, sono felicissimo. Zai ha detto che chiederà i nove decimi del residuo fiscale in regione, questo come si concilia con il suo progetto nazionale? Chiedete ai cittadini del sud se sono contenti dei treni che hanno, delle scuole che hanno, degli ospedali che hanno e della disoccupazione che hanno. Evidentemente laddove viene deciso tutto centralmente a Roma o a Bruxelles non è l'interesse dei cittadini né per il nord né per il sud, quindi permettere alle regioni meglio governate di gestire una parte maggiore delle loro risorse è anche l'unica possibilità di sviluppo per quelle regioni del sud penso alla Puglia, penso all'Abruzzo, ma penso alla Sicilia dove andrò settimana prossima mentre Renzi va in giro per l'Italia con il Frecciarossa, le ferrovie in Sicilia sono a Gasoglio, sono a Nafta sono sul binario unico e per andare da Trapani a Ragusa ci metti 13 ore. Quindi avere una gestione più vicina ai cittadini più vicina ai territori è un interesse di 60 milioni di italiani, quindi che sia la Lega a riformare in senso moderno, concreto ed efficiente l'intero paese per me è doppio motivo d'orgoglio. Matteo senti, Silvio Berlusconi è venuto a Milano e ha fatto una conferenza stampa con Roberto Maroni tu non l'hai fatto e hai spiegato che non l'hai ritenuto opportuno, adesso che è stato fatto il referendum sarà possibile vedere te e il governatore insieme a proporre una strategia per il paese rispetto a quanto accaduto ieri? Assolutamente sì, la riforma che parte dal basso, quello che viene indicato spregiativamente come populismo è l'esercizio di democrazia di ieri. Maroni e Zaia in queste ore, le ho sentite più dei miei genitori abbiamo concordato la strategia per passare dalle parole ai fatti, perché non va delusa l'attesa di questi 5 milioni e mezzo dei cittadini, la stessa opportunità la offriremo a tutte le regioni italiane, a nord e a sud, che lo chiederanno quindi sono due modelli di taglia diversi, uno quello della sinistra che parte dall'alto e poi si cala sul basso quello della lega del centrale di Stato invece parte dal basso. Lasciatemi dire che il silenzio di queste ore di Renzi e di Grillo che di solito parlano di tutto e del contrario di tutto è abbastanza particolare quando partecipano non a un sondaggio, non con un click, ma dal vivo 5 milioni e mezzo di cittadini italiani per chiedere un cambiamento, penso che la politica debba essere tutta felice e tutta dalla stessa parte. Se il PD di Lombardi dice che sta abbastanza l'affluenza. Va bene, non è il giorno delle polemiche, ripeto, avere 3 milioni di Lombardi che in una domenica Lombarda di grigio e di acqua scelgono di andare a votare per il cambiamento è una gran notizia poi il PD si mette d'accordo con se stessi perché c'erano i sindaci del sì, i sindaci del no i sindaci del forse, i sindaci astenuti. Penso che la partecipazione di Lombardi e Veneti abbia spiegato al PD da che parte tira il vento. 5 milioni e mezzo di italiani che hanno votato per l'autonomia fiscale, che è una cosa che non si può fare da Costituzione. Che hanno votato perché vengano gestite a livello regionale alcune competenze che lo Stato oggi non è in grado di gestire. Penso all'organizzazione scolastica, alle migliaia di cattedre vuote che ci sono a un mese dall'apertura delle scuole. È chiaro che se tratti col governo in maniera democratica e trasparente per avere più competenze, tratti anche per avere i soldi per gestire quelle competenze. Poi io non dico da segretario della Lega ci diciamo tutto perché sarebbe sbagliato e sarebbe una follia. Sono un referendum infatti nell'ambito dell'unità nazionale. La solidarietà per chi ha bisogno l'ha prevista, però ripeto, lasciare gestire le regioni quello che lo Stato non è in grado di gestire è un bene sia per il nord che per il sud. A me piacerebbe che a trattare col governo andassero solo Zai e Maroni, mandassero anche il governatore dell'Emilia Romagna a Bonaccini o il governatore della Puglia a Emiliano perché almeno a parole anche loro la pensano nella stessa maniera. Quindi non si può chiamare autonomia fiscale comunque? Si chiama autonomia e poi è chiaro che dal punto di vista del denaro, perché senza denaro non vai da nessuna parte, occorrerà che il governo riconosca anche una parte di autonomia fiscale a chi rappresenta questi 5 milioni e mezzo di elettori. In queste ore noi stiamo parlando di autonomia mentre la manovra economica sta tagliando altri miliardi di euro di trasferimenti ai comuni e alle regioni. C'è il governatore dell'Emilia Romagna che dice inizio a trattare sull'autonomia col governo centrale, intanto ha 230 milioni in meno di trasferimenti per le sue scuole, i suoi ospedali e le sue strade. Quindi è chiaro che l'autonomia senza soldi è una scatola vuota. Ma se il governo vi dice di no? Sembra strano che il governo possa dire di no di fronte a una partecipazione del genere anche perché l'Italia può tornare a competere a livello europeo se valorizza le sue identità, i suoi territori e se non decide tutto centralmente. Quindi mi rifiuto di pensare che il governo faccia finta di niente e se ne freghi di 5 milioni e mezzo di cittadini.